Amici del Zocomunale buon pomeriggio da Affi oggi in compagnia della signora Roberta Brunelli in arte Roberta Viaggi e dopo capiremo anche il perché andando avanti però insomma è molto facile di capirlo visto che sei sempre stato un personaggio molto curioso che mi è sempre piaciuta un attimino sia per la sua esuberanza lavorativa mettiamola così ma soprattutto anche perché insomma è una donna di mondo e anche oggi magari spiegheremo ai nostri follower anche tu come ti sei inventata questo lavoro ma soprattutto visto che lo fai anche da tanti anni vuol dire che proprio ti è piaciuto fin dall'inizio intanto benvenuti allo Zocomunale tutto bene? Ciao a tutti grazie grazie dello spazio insomma siamo a casa tua gran fatti è un po' agitata ha detto però non lo dà a vedere anzi anzi tutt'altro perché insomma parlerà un po' di sé parlerà un po' del suo lavoro di tutto quello che concerne un po' un mondo un po' particolare che sappiamo nel corso degli anni ha avuto delle varie evoluzioni alti e bassi come tanti lavori ma soprattutto mai come adesso insomma se ne parla visto che si è ricominciato a viaggiare alla grande e non solo allora la prima domanda che ti faccio così a buccia pelo è ma come mai hai scelto di fare questo lavoro non è perché magari non so ad esempio per santa lucia e ti regalare il mappamondo no così perché mi piaceva viaggiare e fatta verità mi ha chiamato una ditta di marmi e una di un'agenzia viaggi ovviamente ho scelto l'agenzia viaggi beh in effetti è una scelta una scelta più più che valida direi ascoltami io so che vivi a Calmasino quindi salutiamo gli amici di Calmasino quelli di Bardolino un po' meno no anche Bardolino va bene salutiamo anche quelli di Bardolino e non diciamo dove abita perché così dopo evitiamo eventualmente che folle vadano eh no infatti no 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 non va bene non va bene però dove sei nata volevo chiederti intanto sono nata a Caprino sul mio Montebaldo esattamente che proprio Caprino o dici Caprino per comodità magari era a Spiazzi i miei genitori erano di Spiazzi ma dai spiazzi è importante come paese ormai anche nel corso degli anni ha avuto sempre di più spazio visto che anche ci sono delle casette molto molto belle e mentre dopo con il discorso scolastico hai continuato a Spiazzi fino ad esempio l'elementare all'asilo all'asilo e dopo l'elementare e poi l'elementare a Calmasino e le medie a Bardolino ma dai quindi dopo sei già diventata Bardolino Bardolinese e la Custre per eccellenza e medie superiori tutta l'altra fila scolastica dopo arrivate le medie a Bardolino a Bardolino ti ricordi qualche professore in particolare di quegli anni? il mi ricordo benissimo il professore Oppi Paolo Oppi lo ricordo molto bene sì sì lui dopo altri Storari io avevo la Storari di tedesco terribile dallo sguardo non ho mai capito bene il tedesco a scuola però vabbè beh no che col tuo lavoro ti serva no però poi no però poi l'ho imparato bene ascolta però volevo anche capire un attimino con te che ricordi hai di quell'epoca insomma parliamo comunque di zone sia la zona di Caprino per passare dopo a Calmasino Bardolino adesso sei ad Affi ricordi dell'epoca che hai cioè nel senso come come vivevano quanto tempo abbiamo i più importanti i più importanti beh per me è stato un periodo bellissimo e ho dei ricordi bellissimi sia degli elementari con i quali con i miei compagni siamo ancora amici riusciamo ancora a mangiare la pizza andiamo anche in vacanza insieme quindi anche alle medie io ho dei ricordi molto molto belli veramente però adesso qualcuno in particolare ma no ma insomma in particolare se ti viene in mente andando avanti nella nostra intervista poi ma sai quella volta là che io tanto alla fine qua ho una piccola lista di domande da farti però ce ne sono talmente tante che non penso di riuscire a fartele tutte e quello che mi interessa di più è anche nello specifico del tuo lavoro che differenza invece vedi tra le agenzie di viaggio di una volta e le agenzie magari di viaggio di adesso? beh è una differenza sostanziale perché quando io ho cominciato a lavorare si telefonava sempre per qualsiasi cosa adesso usi il computer tutto il giorno non hai più bisogno quasi di chiamare ma fai tutto via online quindi se vogliamo ti hanno anche un po' agevolato il lavoro certo sicuramente perché comunque da una parte ci hanno tolto perché magari qualcuno si arrangia in internet però sinceramente ci hanno anche molto molto agevolato è tutto molto più veloce il preventivo la pronunzazione le risposte è tutto molto più moderno beh insomma dai vedi che i tempi sono cambiati ma se non avessi fatto questo lavoro ad esempio cioè che cosa ti sarebbe piaciuto fare? io avrei voluto fare l'architetto però insomma alla fine ho deciso per fare l'agenzia viaggi che comunque ti ha dato le tue soddisfazioni e a tuttora e a tuttora te ne sta dando perché insomma lei si è spostata da poco dal canton diciamo dal fianco al canton e da un paio di mesetti in un paio di mesetti adesso sotto la galleria dove c'è la cremerì che salutiamo e gli amici della cremerì che magari ci offrono un caffè una volta ogni tanto non sarebbe una brutta idea perché comunque sappiamo che sei sul tuo almeno adesso o no sei tranquilla e non hai rotture di scatole perché dopo sai la fine tra una cosa e l'altra si lavora sicuramente meglio ed affi in questi anni ti ha dato sicuramente tanto però come l'hai visto? si è evoluto a livelli tipo paesi del lago di Garda? di più? di meno? affi è aumentato in maniera esponenziale negozi anche molto belli si è ingrandito alla grande il centro commerciale di affi ho sempre la percezione che dopo affi sia sempre al di là di Bardolino fatalità io sono di Bardolino tu anche va bene diciamo così più o meno penso che sia uno dei primi paesi dell'entroterra a non sentire così tanto la distanza o la differenza tra comunque l'apporto che può avere un paese del lago rispetto a comunque un paese dell'entroterra che riesce a fare comunque a prescindere i suoi numeri è un qualcosa che è veramente veramente importante periodo nero ok che abbiamo passato un po' tutti negli ultimi anni e sappiamo che a te è un argomento che non piace più di tanto però c'è stato però c'è stato e ti chiedo più che altro che differenze trovi tra il pre e il post cioè nel senso nel periodo pre covid c'erano magari anche dal punto di vista lavorativo certe dinamiche nel post magari si è andati anche un po' meglio io ti faccio un esempio pensiamo solamente dal punto di vista assicurativo chi viene adesso a prenotare un viaggio cerca di calcolare e di mettere dentro qualsiasi evenienza che possa esserci durante un viaggio magari nel pre covid non dico che non interessasse era un po' meno sentita era un po' meno quindi ha dato qualcosa in più dal punto di vista organizzativo il dover pensare anche ad altre cose sì allora dopo il covid devo dire che i clienti hanno più esigenze e da parte nostra agente di viaggio è più impegnativo il lavoro perché comunque devi offrire un servizio a 360 gradi quindi un'assistenza veramente completa però dai anche il covid ha avuto il suo risvolto positivo ma vedi che dopo alla fine l'importante è sempre trovare un aspetto positivo anche nelle cose se proprio vogliamo trovare una roba positiva diciamo così è vero è vero perché ricordiamo tutti il periodo che abbiamo passato adesso divento un attimino no malizioso però insomma un attimino un po' così perché le leggende metropolitane che vertono un po' intorno al mondo delle agenzie di viaggi ce ne sono diverse adesso mi aiuterai anche tu a capire quali possono essere di più o di meno una su tutte è quella che si dice sì l'agenzia di viaggio propone un viaggio che comunque insomma dopo la fine lei ha già fatto quindi è una forma di benefit il tuo quindi hai 10 viaggi su 10 viaggi le ha fatte tutti i 10 perché li propone è vera questa cosa o non è vera? beh insomma cerco di darmi da fare di andare a vedere i villaggi per voi è sacrificante mi sacrifico mi sacrifico per vedere per dopo proporre una cosa che io ho visto con i miei occhi e che ho provato su di me quindi cerco sempre di proporre una meta un viaggio un'alternativa che io so che vada bene per quel cliente se poi l'ho anche vista dal vivo ancora meglio meglio ancora perché nei momenti in cui tu magari non l'avessi vista dal vivo hai un po' di ansia tipo no perché comunque mi affido a dei turo per i torseri quindi insomma alla fine mi affido anche alla negli anni insomma ho consolidato dei rapporti con i fornitori quindi insomma alla fine ti fidi anche del tuo fornitore però se l'hai visto anche è già una cosa diversa sicuramente meglio sicuramente meglio uno degli errori da non fare errori da non fare quando si prenota ad esempio una vacanza quando magari anche una famiglia arriva qua da te non ancora sicura del dove andare del cosa fare l'errore che tu raccomandi di non fare sia alle famiglie che eventualmente le copie o alle persone che vengono in agenzia è una domanda insomma che ti fa pensare però potrebbe avere una risposta l'errore che io eviterei è di dare per scontato che una destinazione non ti piaccia a prescindere o che non vada bene perché ecco bisogna sempre vedere bisogna sempre andare bisogna sempre andare insomma una po' la situazione ecco quindi non partire prevenuti no 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 dire no lì non vado perché esatto quindi magari può essere una bella cosa perché dopo sai alla fine uno parte da casa dicendo no a Dubai non vado ecco perché no perché no io sono un po' particolare anche io da quel punto di vista lì invece il viaggio più strano che hai fatto tu io personalmente tu personalmente allora il viaggio più strano che ho fatto è stato avevo accompagnato un gruppo abbiamo fatto Messico Guatemala, Honduras Honduras e Belize e New York pure vabbè giusto perché andrà a farsi mancare bello bello molto bello faticoso un mese in giro è dura è stato bello è stato bello sto periodo qua era aprile ma dai aprile aprile del 2000 me lo ricordo ancora ah quindi allora abbiamo detto del viaggio più strano che hai fatto il più bello invece ecco questa è una domanda da non fare mai a un agente di viaggio ma c'è anche il più brutto dopo c'è anche il più brutto c'è il viaggio più bello che tu hai fatto eh sono tutti belli i viaggi a prescindere ti piace l'importante è viaggiare sì è una domanda troppo difficile il più bello il più bello il più brutto invece è lo stesso motivo non si dice però cioè tu ad esempio sei andata non so in non so giamaica tutti belli tutti belli tutti belli tutti belli a parte uno che mi è piaciuto molto però sì sì tutti belli sì che sei una donna fortunata vedi che la fine certo mi capita a me fare cose tutti brutti a me e ancora fanno uno bello ad esempio però a parte vedi questa è una promo mica mica scherzo è vero ascoltami io so anche da quello che leggo un attimino un po' nei miei appunti che non è facile anzi soprattutto il tuo lavoro si basa su quello che è un po' il rapporto con i clienti anche è vero che c'è sempre più l'inserimento dei social dei computer di tutto quello che è il mondo di internet però che vince sempre un po' il rapporto con le persone i rapporti interpersonali però ti chiedo adesso clienti particolari sicuramente ne avrai avuti ma qualche richiesta la più particolare una delle più particolari richieste che ti ricordi? beh allora la richiesta più particolare è stata tanti anni fa un cliente indiano indiano proprio e voleva un biglietto per l'India per Delhi e voleva portarsi un'urna con la moglie dentro e lì è stata un po' particolare perché non le la facevano vabbè no non si può portarle come bagaglio a mano pensate una cosa ecco ecco vedete è rimasta impressa vedete sì no pensavo che avessi avuto problemi a capire perché questo qua magari voleva andare in India allora in due invece n'era uno cioè in due però vabbè questa era brutta vabbè questa cancelliamo eventualmente però sta ridendo quindi vuol dire che era bella e quindi questa è stata una delle richieste più strane che ho avuto che in effetti fa venire un po' la pelle d'oca perché sì esatto mamma mia allora io adesso so che sei ferratissima sulle capitali voi facciamo tipo europee o mondiali perché io so che me le fai facili vabbè europee le sai tutte le so anch'io che sono un somaro tipo ad esempio della Danimarca vabbè Copenagheri eh vedi vedi che alla fine allora vabbè Copenagheri era facile e invece la capitale del vabbè Portogallo beh Lisbona eh vabbè questa la sai vabbè allora visto che fa la furba la capitale del Burkina Faso ho imparato tre giorni per dire solo il nome ho già studiato tre giorni il nome non la so eccola eccola qua qua non la sa eh non si può allora io non posso dirtela perché tu non la sai no non ti dico mica non la sai anche te no lo so ma infatti io faccio le domande e tu fai le risposte perché se no sarei rovinato attenzione perché come vedete oggi bocciata bocciata rimandata Roberta Viaggi rimandata a parte gli scherzi adesso noi siamo in ottima compagnia oggi perché giustamente con la con la nostra amica Roberta non si sbaglia mai però però manca una persona che pur di non essere qua si è inventata di dover andare a Verona esattamente e comunque noi la salutiamo salutiamo Alice che è la tua bimba bimba un metro e ottanta praticamente 42 di piedi e e non so veramente ormai 16 17 18 17 17 anni è un fiore un fiore che sappiamo però insomma lei visto che è clarinettista nella filarmonica di Bardolino avere questa passione che intanto insomma l'ha smalizzata un pochino perché era molto timida all'inizio adesso la vedo già molto più presa sia dal discorso musica che soprattutto anche nella nella bellezza del poter stare insieme a condividere momenti anche con altre persone dimmi la verità ti rompe le balle col clarinetto a casa o è abbastanza no è bellissimo sentirla suonare si ti piace si ti fermi ti ascolti abbasso la tv e così ascolto lei è che la mia suona il flauto poverina però quando ogni volta la suona a casa prende parole a destra e a sinistra infatti se lo porta da sua nonna e suona da sua nonna che così no no io volentieri ti piace ti piace e giustamente e penso che sia anche una questione di cuore perché logicamente anche la buona Alice essendo un artista di famiglia possiamo dire ha sicuramente nel suo DNA quello che è un po' è stato il il cavallo di battaglia un po' dopo che è anche del papà perché comunque l'aspetto della musica ha sempre fatto parte della vostra vita e mai come il buon Antenor è stato un personaggio che della musica ha fatto della propria vita anche quindi sicuramente Alice deve la sua passione a quello che è stato un po' l'insegnamento della passione del padre direi che buon sangue non mente sappiamo che comunque insomma non è stato facile è stato un periodo sicuramente non facile difficile però con la forza di due donne se riusciti sicuramente a venire fuori anche da quello che come sei detto sono quelle cose che capitano e alla fine purtroppo non si può farci mai niente però andiamo avanti che come sempre bisogna fare anche nella vita bisogna andare avanti il ricordo più bello ad esempio che hai con l'Alice dal punto di vista anche musicale tu mi hai detto perché ti faccio questa domanda perché io so che a breve Alice farà un esame conservatorio diciamolo sottovoce perché comunque insomma è sempre una prova che va fatta e va superata non bisognerebbe dire ormai l'abbiamo detto quindi Alice sarà bocciata e suonerà nella filarmonica in eterno è il primo clarinito non ne va ne ha altri anche io sono primo batterista alla filarmonica che so solo che mi però insomma ti piace ti stimola questo aspetto nel senso di vedere la sua caparbietà sono molto orgogliosa che lei suoni e scuola invece che scuola fa adesso? lei fa liceo scientifico ed è molto brava è brava anche a scuola? molto brava sì sì molto brava brava bravissima brava Alice brava Alice complimenti mi raccomando in bocca al lupo peccato che insomma tu possa grazie del vero è una filarmonica vita però detto questo detto questo la domanda che mi viene da farti adesso è un pochino rivolta al futuro nel senso che che progetti futuri ha Roberta Viaggi dopo lo spostamento? beh di vendere sempre più viaggi come sto facendo in questi mesi che dopo il covid è ripartito il mondo del turismo veramente alla grande e progetti futuri sempre a Pescaramanzia non si dica non si dica è furba questa Roberta Viaggi è troppo furba veramente una cosa fuori di testa allora prima di fare la domanda finale che solitamente noi facciamo sempre agli amici della zona comunale io ti ringrazio perché intanto è stata lunga nel senso che ho dovuto avvisarla per tempo sì vado dalla parrucchiera no questa settimana non ho tempo però alla fine ci siamo riusciti e quello che conta è sempre il risultato quindi io ti ringrazio di averci dato la possibilità di farti conoscere un po' di più anche ti ringrazio io ai nostri follower ma soprattutto anche a tutte le persone che ti conoscono e sono veramente in tante secondo me come vedrai dai risultati che dopo ti darà anche questa diretta e che dire anzi in bocca al lupo per i tuoi progetti futuri che non mi hai svelato che però saranno sicuramente propositivi e positivi adesso io devo farti la fattivica domanda ma lei signora Roberta Brunelli in arte Roberta Viaggi che animale si sente di questo zoo comunale? oddio così su due piedi devo dire un animale un animale cioè ti dici magari dal punto di vista caratteriale ti senti non so perché mi dicono di ogni è una domanda difficile che animale mi sento? un delfino oila delfino perché tipo non so perché è curioso perché è libero e perché sta al mare tutto il giorno beh gran fatti sembra quasi che abbia un'agenzia di viaggi la signora veramente allucinante mi ha preso in contropiede è la domanda fatidica però il delfino mi piace il delfino mi piace anche a me quindi bella scelta anzi complimenti per la scelta del delfino che è sempre un animale simpatico anche quindi non ci si lamenta signora Roberta faccia la brava in bocca al lupo mi raccomando vero? grazie grazie mille ma di cosa? ci vediamo spesso noi adesso andiamo a mangiare gelato la cremeria che ce l'ho sicuramente un bacione cara grazie 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 a tutti